È stata inaugurata nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico la mostra Un futuro per il Museo Ferroviario Piemontese, tecnica e passione al servizio della cultura ferroviaria. L'allestimento propone pannelli fotografici e modellini di treni d'epoca, stampe raffiguranti stazioni del passato e immagini storiche di manifesti dedicati alla strada ferrata. La rassegna, curata dal Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, è visitabile fino al 27 febbraio. La mostra presenta una serie di cimeli, di fotografie e documenti che provengono dalla sede espositiva del Museo Ferroviario Piemontese che si trova a Savigliano. Servono per informare la popolazione del fatto che esiste il museo che merita la pena di essere visto perché è ricco di una collezione di oggetti e cimeli di grandissima importanza storica.